Purtroppo gli aggiornamenti ci sono e sono negativi, i due ragazzi sono stati localizzati ma purtroppo sono stati rinvenuti senza vita, una caduta probabilmente dall'alto che si è conclusa a terra, maggiori dettagli ovviamente si avranno nelle prossime ore, però purtroppo siamo costretti a darvi questa spiacevole notizia. Morti in fondo a un canalone sul versante est della cima del cacciatore, precipitati in un burrone per loro, non c'è stato nulla da fare, sono circa le 16 quando le speranze di ritrovare in vita il 41enne Massimo Grassi e Jennifer Bubici di 35 anni, i due escursionisti Tristini scomparsi da martedì, si spengono per sempre, l'elicottero della protezione civile che era riuscito ad alzarsi nuovamente in volo solo attorno alle 14 per le condizioni climatiche avverse individua i due Tristini nel fondo di un burrone, erano state proprio quelle tracce di scivolamento impresse nel ghiaccio a ridurre al lumicino le probabilità di ritrovarli sani e salvi dopo tre notti passate al gelo. L'aiuto nelle ricerche dei circa 50 uomini impegnati sul lussari è arrivato dai due cani della coppia di amici, Pedro e Meghi, il cui comportamento è stato utile a rintracciare il luogo dell'incidente. Ieri i cani erano scesi a poca distanza dall'automobile e nonostante l'offerta di cibo e l'esperienza delle unità cinofile non sono riusciti ad avvicinarli e poi sono scappati di nuovo e sono scappati nella zona dove poi si sono concentrate le ricerche, ovviamente spaisati, ovviamente abbaiando, ovviamente stremati e poi sappiamo che oggi con calma e con l'esperienza sono stati recuperati anche loro e hanno sicuramente aiutato perché erano proprio in prossimità. Gli uomini del soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco e corpo forestale con l'ausilio di un elicottero e alcuni droni da giorni in condizioni di estrema difficoltà erano tutti impegnati nella ricerca dei due triestini. Esperti, amanti della montagna, Massimo e Jennifer hanno trovato la morte traditi da quella passione così forte quanto spietata.